il viaggio da roma a maddà su un treno che partendo da roma dalle otto del mattino arrivava a maddà sette minuti dopo la mezzanotte l'avvocato vacanino sistematicamente lo impiegava leggendo un quotidiano tre rotocalchi e un romanzo poliziesco almeno una volta al mese gli toccava fare quel viaggio all'andata ristudiava e riordinava le carte che erano ragione del suo viaggio al ritorno si dava a più svagate letture ma il quotidiano il cerro tocalchi e il romanzo erano ormai misura di un viaggio in orario dalle otto alla mezzanotte con l'intervallo dei due pasti uno sul vagone il guaglio era quando il treno si correcava di ritardo consumata la carta stampata non potendoci dedicare nemmeno a guardare la campagna o il mare che ora scorrevano nella notte amorfa il sonno cominciava insidiarlo e c'era pericolo che andasse a finire pesantemente addormentato alla stazione terminale come già una volta gli era capitato perciò quando il ritardo si verificava su un treno ormai quasi vuoto l'avvocato si dedicava alla ricerca dei giornali abbandonati dai viaggiatori e si sentiva salvo soltanto quando ne trovava qualcuno fascista di moda o di fumetti che fosse e fu così che una notte d'estate col treno che già a catania aveva quaranta minuti di ritardo e era prevedibile ne avesse cento venti prima di arrivare a moda l'avvocato ora ci sono più riuscite a fare la prima volta che quindi è la prima volta che non è la prima volta che non ti fa così che è la prima volta che non ti fa così che è L'avvocato si trovò immerso nella lettura del settimanale poi moda casa attualità e prima lo sfogliò soffermandosi a contemplare le immagini di una moda che per quanto del corpo delle modelle scopriva era senza dubbio piena di vivacità e di grazia ma sarebbe risultato indecente Quasi si spaventò vedendo la moglie nuda, le braccia alte, la testa velata dalla camicia da notte che stava infilandosi e gli parve il momento giusto per chiedere con voce atona e tono calmo Perché hai scritto a pace Lucchesini? La faccia di lei sembrò venire fuori da uno strappo raggelata in una smorfia di smarrimento e di paura quasi gridò Chi te l'ha detto? Nessuno, ho capito subito che la lettera era tua Perché? Come? Perché sapevo Come? 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 Questa è la pari Vero, vero Cosa? Vero, vero Vero, vero Vero, vero Vero Vero, vero Vero, vero Grazie.